E se è così, sarò il primo ad essere contento, dottoressa. Ma intanto, dato che lei ha avuto ultimamente rapporti di lavoro stretti con l'Oiagono, mi aspetto a lei una sua collaborazione per far luce sulla vicenda. Cosa sta dicendo? Che sono indagata anche io? Per carità, non mi fregne. L'amore è un'invenzione per sovrimare l'aspirazione delle donne. Sognano il Principe Azzurro e poi si ritornano a casa un ciccione e ciabatte che vede la partita. E allora cosa fanno? Continuano a sognare il Principe Azzurro per non pensare al ciccione e ciabatte che sta a casa. E perché non siete con gli altri? Ci siamo persi. Venite con noi. Prendilo e chiama, dai. Chiama domani. Sara, sono anni che dici domani. E vuol dire che non ce la posso fare? Ancora? Ma secondo te, in quel pub, ti hanno presa per chiama il culo? No, perché, scusami se te lo dico, eh. Anche se è fasciato di seda, lascia un pochino a desiderare. Preferivo quando mi davi del pappagallo. Non se ne parla poco. Non è proprio la fidanzata tua. Ma quando mai? Accompagnati a casa, si è fatto tardi. Poi te, nannina. E te ne annui la tua con cui ripartire. Magari non te ne accade. Non te la famiglia tua. Guarda. e tu sto dicendo umano padre